Buongiorno a tutti signori, oggi è il primo video riguardo una squadra veramente veramente interessante, in ascesa, la squadra di questo signore qui. Si va oggi con i San Antonio Spurs. Partiamo! E come al solito, prima di cominciare a parlare di San Antonio Spurs, aspetti salariali, contrattuali, prospettive per questa nuova stagione, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, attivare la campanella, stavo dicendo di abbonarvi. Se volete abbonarvi potete farlo, perché ad esempio questo video e tutti i seguenti per gli abbonati saranno visibili appena caricati, mentre per tutti gli altri l'orario di condivisione dei video sono le ore 21.30, quindi andiamo sulla sera tardi. Signori, San Antonio Spurs, Victor Remaniama, Chris Paul, Greg Popovich, c'è di cui parlare. Quindi andiamo subito negli aspetti generali. Signori miei, San Antonio Spurs, la copertina è tutto un programma, ma ha il suo perché, perché insomma i San Antonio Spurs sono nella migliore delle condizioni possibili e immaginabili che potreste mai pensare per una squadra con probabilmente colui che diventerà il miglior giocatore del mondo in tempi molto brevi, ovvero Victor Remaniama. Signori, San Antonio Spurs l'anno scorso hanno avuto un record stagionale di 22 vittorie e 60 sconfitte. Nonostante il record, la gente si è stropicciata ampiamente gli occhi per l'impatto di Wemby nel mondo NBA. Un impatto che è partito lentamente perché Wemby veniva usato in sostanza la numero 4 di fianco a Zach Collins e poi la numero 5 si è espresso al suo meglio. Un po' come all'Olimpiadi quando hanno panchinato Rudy Gobert e lui ha fatto il 5 puro. L'allenatore rimane Greg Popovich, ormai è una certezza. Si pensava a tutti che potesse ritirarsi, non alla fine di quest'anno ma alla fine dell'anno scorso. In realtà è steso per 5 ulteriori anni, certo. L'effetto Wemby ha anche su Greg Popovich che fiuta ulteriori anelli e ulteriori premi. Nuovi arrivi da free agency e trade. Harrison Barnes è arrivato dai Sacramento Kings e soprattutto Chris Paul. Ha firmato con i San Antonio Spurs dopo essere stato tagliato, insomma in generale sulla sua esperienza a Golden State non è stata proprio il massimo dei massimi. Capita però secondo me nel contesto adatto perché non ci sono pressioni. Di fatto a San Antonio non ce ne sono mai state, nemmeno quando si vinceva quasi sempre. e soprattutto dovrà svezzare nei pick and roll Wemby e palle in mano il rookie Stefan Kassel che ha ben impressionato in Summer League poi si è fatto male ma è chiaro che insomma debba in qualche modo assorbire il più possibile da Chris Paul. Ci sono un paio di situazioni da definire. Brandon Boston e Malakai Flynn, giocatori di contorno, giocatori che nel caso dovessero rimanere non ho dubbi che Greg Popovich potrebbe impiegare all'interno del sistema Spurs e poi parte l'estensione di Devin Vassell. Devin Vassell ha un nuovo contratto a partire da questa stagione per i prossimi 4-5 anni se non ricordo male e poi ovviamente la rifirma del my man Sandro Mamuchelashvili che rimane l'arma segreta dei San Antonio Spurs. Lo sguinzaglieranno il momento in cui arriveranno ai playoff. Andiamo a vedere la situazione salariale complessiva della squadra di Greg Popovich e Arcee Buford perché come detto Devin Vassell ha un nuovo contratto sotto i 30 milioni per un giocatore che insomma ha 20 punti di media e che sta crescendo perché tutto sommato è ancora giovane. E' una buona cifra come è buona la cifra a scendere di Keldon Johnson. Keldon Johnson ne parlerò dopo ma insomma non voglio anticipare i discorsi che farò nello spazio dedicato alle previsioni. C'è poi Harrison Barnes, Zach Collins, sono due giocatori con altri due anni di contratto, cioè questo e un altro e ovviamente nel momento in cui sarà eleggibile per l'estensione Wemby scadranno questi contratti. Insomma San Antonio ha una flessibilità salariale terrificante per gli altri. Mi ero anche scritto quanto. Sono 5 milioni oltre il salary cap, però hanno Chris Paul e 3 Jones in scadenza. Ora vediamo, però Chris Paul va per i 40 anni. Potrebbe anche essere un test di Chris Paul questo e poi fare il quarantesimo anno con l'amico Lebron da qualche parte. Ma queste sono illazioni e per il resto hanno una situazione contrattuale veramente spettacolare perché insomma hanno tanti contratti che durano un anno, due anni, hanno Wemba Niyama e poi parleremo anche di cos'hanno, di cos'altro hanno perché andiamo a vedere un secondo l'aspetto draft picks perché questo fa molto sorridere, molto sorridere. Il San Antonio Spurs hanno tutte, 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 tutte le loro scelte. Occhio perché al prossimo draft hanno anche la scelta non protetta di Atlanta, una pick protetta lottery di Charlotte e una pick protetta top 10 di Chicago. Potenzialmente hanno quattro pick al prossimo draft. La loro e quella di Atlanta potrebbero benissimo essere pick da lottery il che insomma ci pone nella situazione di avere i San Antonio Spurs competitivi anche per una possibile prima scelta assoluta del prossimo draft che come ben sapete ormai tutti dovrebbe essere Cooper Flagg. San Antonio è piena di pick anche in futuro perché insomma nel 2027 ha ulteriormente la sua e anche quella di Atlanta e nel 2027 sono abbastanza fiducioso sul fatto che Atlanta possa non essere una squadra da playoff però sai, sai mai, magari adesso arriva il fenomeno di turno o Jalen Johnson fa l'exploat ma non credo proprio. e andiamo alla depth chart. Alla depth chart prima di andare a parlare di quelle che sono le aspettative per il nuovo anno perché qui danno come formazione titolare Paul Castle, Vassell, Sokan e Wemba Niyama. Secondo me il quintetto base dovrebbe essere Chris Paul, Vassell da guardia, Harrison Barnes e poi Sokan e Wemba Niyama ci possono stare. Detto questo hanno tre Jones, hanno Keldon Johnson, hanno Zach Collins, hanno tanti giocatori che col fatto che San Antonio ha fatto schifo negli ultimi anni hanno comunque fatto esperienza e giocato perché Malakai Branham, Blake Wesley, Charles Bussey, Julian Champagne, sciaboliamo, hanno Malakai Flynn che potrebbe essere confermato l'anno scorso 50 punti e poi è uno Sandro, Sandro che è tutto il contrario di tutto. Però, bando alle ciance, abbiamo visto un po' la situazione generale senza perdere troppo tempo, andiamo a vedere e capire quelle che secondo me sono le aspettative per la nuova stagione. Vai! San Antonio, San Antonio è quella sottile fortunella che li riporta sempre, sempre, sempre a competere per le alte sfere. Non sarà questo l'anno, i bookmakers però ci credono tantissimo perché i bookmakers hanno impostato la linea Spurs a 36 e mezzo, vuol dire minimo 37 vittorie. L'anno scorso 22 complessive, ben 15 in più, sono molte, molte, molte. Ma la fiducia è perché c'è quello alto, alto francese, insomma, chiaramente. La linea è altissima ma avere Wemby è il motivo per cui è così alta. Con buona pace di Wemby ritengo però che l'asticella sia ancora un po' troppo elevata. O Chris Paul torna quello di Phoenix, oppure se è quello dell'ultima stagione. Non credo che solo con la sua presenza possa portare una squadra, come detto, da 22 a 37 vittorie. Dico quindi Under, anche se godrei moltissimo, devo confessarlo, nel vederli over. Popovic ha scelto un minimo di esperienza per la prossima stagione, con Chris Paul e Harrison Barnes a completare un quintetto che, come ho detto in precedenza, prevedo possa essere Paul, Vassell, Barnes, Sokan e Wemby Nama. Non male, anzi, tutt'altro. E nell'enorme mediocrità generale che comunque ha questo roster, su cui comunque inevitabilmente si erge il francesone, il gruppo mi sembra comunque estremamente profondo, con un secondo quintetto formato da Jones, Kessel, Keldon Johnson, Zach Collins e poi uno a scelta tra tutti gli altri. E poi vabbè, c'è sempre Sandro, Sandro, Sandro. Dopo una stagione in cui spesso Chris Paul ha fatto da bloccante off-ball per Steph e Klay, ora vedremo finalmente la Point God fare da bloccante negli inverted pick-and-roll con Wemby Nama che porta palla. Questo è un sogno bagnato e non vedo l'ora di capire se Popovic lo metterà in pratica. CP3 e Wemby nei pick-and-roll saranno goduriosi, ma non dimentichiamoci dell'ulteriore crescita di Devin Vassell e Jeremy Sokan, chiamati ad essere decisivi chi in attacco, chi in difesa. Keldon Johnson da sesto uomo va benissimo, anche se rispetto a quello che sembrava potesse diventare un paio di stagioni fa, ora si è fermato nel suo percorso di crescita, motivo in più per accettare di buon grado l'arrivo di Chris Paul, che sarà anche vecchio, ma ovunque andato è sempre riuscito ad elevare il livello generale dei propri compagni di squadra, tranne i Warriors, dove però c'era ben poco da elevare. Obiettivi? Crescere. Vedere Wemby al secondo anno. Cercare di far assorbire a Kessel gli insegnamenti di Chris Paul, sperare che Sokan confermi la sua crescita e poi augurarsi che Atlanta faccia schifo che più schifo non si può. Immaginatevi questi qui, ai play-in play-off per qualche strano motivo già quest'anno, e poi la pick di Atlanta che gli frutta Cooper Flagg. Signori, la dinastia sta ripartendo, e ad una botta di culo, dal tornare a dominare per vent'anni. Questo solo il tempo ce lo dirà. Abbiamo completato la puntata sui San Antonio Spurs, ovviamente, come al solito, commentate anche se non avete niente da dire per l'algoritmo di YouTube, che bisogna sempre tenerlo lì in moto e spingerlo avanti. Chiaramente i San Antonio Spurs sono la squadra del futuro, sono la prima vera squadra interessante di cui ho parlato in questo 30 su 30 da qui in avanti, a parte i prossimi, devo dire la verità, e i Brooklyn Nets, sono tutte squadre veramente interessanti e su cui si possono fare molte, molte ipotesi. Ditemi la vostra su quello che potrebbe essere il record di San Antonio Spurs quest'anno. Siete in linea con i bookmakers, cioè ottimisti al massimo, oppure siete in linea con me un po' più prudenti? Ditemelo nei commenti, ho fatto anche la rima. Guarda che bello. Un saluto, il Franz. Grazie a tutti.